...ocentivamente di un'altra categoria di avversari, guarda Marissi, un testo oggi. Una vera debattia per loro, avranno molto su cui riflette nei prossimi giorni. È stato un grande pavirizzo di calcio, grazie davvero a tutti i veri che ci hanno seguito e grazie soprattutto al nostro giocatore da fine. Grazie. Grazie. Grazie.